La comunità dei senatori del Movimento 5 Stelle è lacerata, dopo settimane di polemiche interne e insulti personali legati alla scelta se allearsi o meno col PD. E' andato in scena ancora una volta un teso confronto fra ortodossi e aperturisti. Era ancora in corso la riunione quando è intervenuto direttamente Peppe Grillo sul suo blog Siamo in guerra, una guerra che deciderà il destino di questo paese per i prossimi decenni, ha scritto O ci sarà una svolta o una lenta stagnazione con facce nuove a proteggere i vecchi interessi di sempre Chi vuole guardarsi l'ombelico si tiri fuori, il Movimento 5 Stelle non è il suo ambiente Presto faremo il terzo V-Day, tenetevi pronti Questo è lo scenario emerso dalla seconda parte dell'assemblea di gruppo, convocata in prima istanza ieri e ripresa alle 11 di questa mattina A porre il problema politico centrale è stato Luis Alberto Rellana, tra i più esposti alle critiche al leader Peppe Grillo Io ha spiegato, voglio solo rimuovere il tabù, in Sicilia i nostri si sono alleati con Crocetta I senatori più vicini all'area critica chiedono di non far passare le decisioni sulla linea dai soli post sul blog di Grillo O dalle prese di posizione a volte affidati a comunicatori Movimento 5 Stelle Alessandra Bencini ha chiesto ai colleghi Chi devo ascoltare? Il mio meetup di Firenze? Quelli della Toscana? Tutti gli altri in Italia? La base dei nostri votanti, ho sottolineato, è molto più ampia rispetto a quella informatizzata e militante Con cui abbiamo un rapporto più diretto Uno scontro quindi che non accenna a diminuire di possibili scenari Ne discuteranno anche i deputati alla Camera Avvisati però per tempo da loro guru Grillo A meno che non vogliano finire anche loro nel calderone del V-Day